Il governo regionale l'aveva annunciato sollevando mille polemiche. C'erano state proteste e manifestazioni. La chiusura dei punti nascita al di sotto dei 500 partianui prosegue la marcia e questa volta, alla voce dei sì, si aggiunge anche quella del ministro alla salute Beatrice Lorenzin che si dice favorevole alle intenzioni messe in campo dall'Abruzzo. Proprio a Rivisondoli, in occasione della convention di NCD, si erano incontrati con lei, il governatore D'Alfonso, e l'assessore alla salute Silvio Paolucci. Poiché siamo in attesa dal 2007 della possibilità di uscire dal commissariamento, il fatto che i provvedimenti che abbiamo messo in campo, come noi avevamo dichiarato, erano propedeutici all'uscita dal commissariamento è stato confermato da una nota e da un'assunzione di responsabilità del ministro, cosa che non è mai avvenuta in questi dieci anni addietro. Io credo che sia una bellissima notizia per l'Abruzzo. Tra i provvedimenti propedeutici all'uscita dal commissariamento c'è anche la riorganizzazione dei punti nascita e anche su questo punto il ministro ha sconfessato il centrodestra, perché il centrodestra ha più volte sottolineato che l'uscita dal commissariamento non era legata alla riorganizzazione dei punti nascita. È un falso, lei lo ha dichiarato in più punti, sono quattro le questioni che tuttora sono aperte, una è appunto il punto nascita, un'altra è relativa alla riorganizzazione della rete di emergenza urgenza e poi fa bisogno di territoriare le riconversioni. Nessun ripensamento e nessuna deroga a chiudere saranno come annunciato i presidi di Atri, Penne, Sulmona e Ortona, un risultato soddisfacente secondo l'assessore che conta gli anni trascorsi dal commissariamento della regione. Sulla riorganizzazione dei punti nascita è stata oltremodo chiara, ha indicato come mille il numero di parti a che un punto nascita sia in sicurezza e allo stesso tempo è indicato che le deroghe se si arriva a 500 per le aree interne non costiere potevano essere appunto in qualche modo utilizzate e da questo punto di vista i tre punti nascita che stanno e insistono sull'interno non arrivano a mille e il punto nascita di Sulmona area interna arriva appena a 247 parti per, voglio ricordarlo, un personale complessivo del reparto di 29 persone cioè si arriva a 0,4 parti naturali al giorno io credo che sia un elemento di insicurezza troppo profondo per poter dire che in qualche modo noi non agiamo.